Il Napoli vince contro la Roma e la Juve torna solitaria in vetta. Questo gli esiti dei due anticipi della decima giornata del campionato di Serie A. Al San Paolo gli azzurri di Rafa Benitez battono i Gianro Rossi di Garcia per 2-0. Vantaggio immediato di Higuain in mezza rovesciata su servizio deviato di Insigne. Il raddoppio a dieci minuti dalla fine con Kale Hon in contropiede, dopo che gli ospiti con Florenzi avevano sciopato due palle gol. Per il pareggio ad Empoli la Juventus dopo un primo tempo attendista nella ripresa batte 2-0 un Empoli sempre più in crisi. Vantaggio con il solito Pirlo e poi a completare Morata. Domenica fra le altre sfide della giornata un'interessante Sampdoria Fiorentina al Poloriggio mentre il Milan a San Siro cerca una vittoria contro un Valerbo da non sottovalutare.